Vecchie e nuove amministrazioni accomunate dal problema della Movida, se ne parla spesso di questi tempi, sono molte le segnalazioni ed è sempre attuale la ricerca di un equilibrio su tale vicenda. L'assessore Lorenzo Giorgi, insediatosi da poco all'interno degli uffici comunali, con la deliga al commercio, ha già fissato nel suo calendario alcuni appuntamenti utili per poter delineare la strada da seguire per coniugare la quiete pubblica al diritto degli esercenti di poter lavorare con la vita notturna. Noi dobbiamo mettere mano al regolamento, questa è la prima cosa che mi sono posta assieme agli uffici, abbiamo preso così possesso dell'assessorato da due giorni, per cui immediatamente stiamo cercando di capire e incontreremo tutte le persone che si occupano della problematica, quindi da una parte i commercianti e dall'altra i comitati dei residenti per vedere come venire in conto le esigenze di tutti. Fermo restando che sottolineo l'importanza di dare un'offerta turistica, ma un'offerta anche ai nostri giovani, anche attraverso la musica. Con un'altra sottolineatura, se ci sono regole vanno rispettate, dobbiamo fare in maniera che siano regole eque però. Uno dei nodi principali sulla questione è dettato dalla diga, in questo caso la problematica di natura geografica. Proprio oggi ho un incontro con chi opera nella diga per cercare di capire quali sono le loro richieste e evidentemente valutare come l'amministrazione comunale può intervenire con il solito discorso. Bisogna rispettare le regole ma bisogna dare anche un tipo di offerta ai nostri giovani. Lì siamo in una situazione particolare anche per l'impossibilità di andare a fare dei controlli da parte della polizia locale, ad esempio.